5 morti sul lavoro in un solo giorno e strage da Milano a Palermo, il ministro Orlando più controlli e ispezioni. Cabina di regia sulla nota di aggiornamento al DEF, crescita al 6%, deficit al 9,5%, domani il Consiglio dei Ministri. Conte e Letta, proroga superbonus, lavoro dei giovani, centrodestra, tagliare le tasse, caso Morisi, Salvini, attacco politico prima del voto. Mattarella a Pescara, pandemia e terremoto inducono a ritrovare le ragioni della solidarietà, Draghi all'Aquila, accelerare ricostruzione. Egitto, solo due minuti di udienza ed un lunghissimo rinvio al processo a Patrick Zaki, ancora 70 giorni in cella. L'ondata di caldo al centro-sud, spiagge affollate e temperature sopra la media, gli esperti avvertono dovremo abituarci. 400 giovani di tutto il mondo a Milano per discutere della crisi climatica, dal palco Greta Thunberg accusa, dai leader solo bla bla bla. Ministro Cingolani, le proteste sono utili, ma ora uniamo le forze. Due operai morti investiti da una perdita di azoto all'ospedale Humanitas nel milanese, sempre oggi altre tre vittime a Padova, Torino e a Palermo. Cabina di regia sulla nota di aggiornamento al DEF, crescita prevista del 6%, Draghi oggi all'Aquila. Il Premier lancia intanto la candidatura di Roma per Expo 2030. Zaki in manette nella gabbia degli imputati in Egitto resterà ancora in carcere. Udienza durata due minuti, processo aggiornato al 7 dicembre. Migranti a Lampedusa, quasi 700 arrivati su un peschereccio, uno degli sbarchi più consistenti degli ultimi anni. L'hotspot oltre i limiti. Presentate le opere che hanno arricchito il patrimonio artistico del Quirinale. Quadri e oggetti di design, espressione della creatività italiana dal dopoguerra a oggi. Stangata in arrivo sulle bollette più 29,8 la luce, più 14,4 il gas. In un anno 300 euro in più a famiglia con gli interventi del governo in patto zero per le fasce deboli. All'ospedale Humanitas di Milano due operai muoiono colpiti da zoto liquido. Altra vittima nel Padovano in un cantiere stretta per le aziende, non a norma di legge. Ricostruzione più veloce, dovere verso i cittadini. Draghi all'Aquila inaugura il parco della memoria per le vittime del terremoto e candida Roma per Expo 2030. L'inchiesta per droga su Morisi scuote la Lega Salvini e un attacco per colpirci a cinque giorni dalle elezioni scontro con Giorgetti. Dopo oltre due mesi tasso di positività sotto l'1, CTS, capienza all'80% per cinema e teatri, 75% negli stadi. Milano alla conferenza sul clima Greta sferza i politici da 30 anni solo chiacchiere. Le lacrime di Vanessa, attivista africana all'effetto Serra, produce sofferenza e morte. Due romeni fermati in auto alla vigilia di Ferragosto, il blitz nella villa e il sequestro di dosi di droga. Questi passaggi dell'inchiesta sull'ex social media manager della Lega Morisi avviata oltre un mese fa. Il procuratore di Verona ha fatto banale per l'autorità giudiziaria l'indignazione di Salvini, sbattuto in prima pagina, chi gli darà la dignità? Se il PD fa il pesce in barile, Renzi dichiara guerra al fango mediatico. Non faremo agli altri quello che è stato fatto a noi, ma gli avversari politici vanno all'offensiva, grillini in testa e sulla rete si scatena il linciaggio. Il giustizialista e il segretario del Carroccio, un attacco gratuito a cinque giorni dalle amministrative. Mi trattano da terrorista perché dicono al Green Pass, ma io difendo la Costituzione, non arretra dalle sue posizioni la vicequestore di Roma, che durante un comizio ha incitato la rivolta contro il passaporto verde. La funzionaria di polizia dice di avere paura di perdere il posto di lavoro, ma già intravede un futuro senza divisa. Ho ricevuto molte proposte anche dalla politica e da stanotte, su indicazione della procura di Torino, Telegram ha oscurato la chat sulla quale si ritrovavano migliaia di no-bugs per pianificare manifestazioni e minacciare azioni violente. Ma ad agitare i già turbolenti animi del dissenso al documento sanitario spicca la figura di Carlo Freccero e il manager televisivo difende la teoria del grande reset, secondo la quale l'elite vorrebbe imporre nuove forme di controllo sulle persone. Il Covid sostiene è l'occasione per instaurare un nuovo ordine mondiale e rilancio il referendum per abolire il pass. A Milano risponde alla polemica sulla sicurezza ai campi Roma. A denunciare l'ultimo episodio la consigliera comunale rivista Silvia Sardone è insultata e aggredita a colpi di uova, secchi d'acqua e oggetti durante un sopralluogo. Scredono padroni di questa parte della città, afferma l'euro parlamentare. Appena si barcano i cancelli le regi dello Stato non vanno più. Tra regolari e abusivi sono 25 rinsediamenti censiti nel capologo Lombardo. Quasi tutti confinano con terreni trasformati in discariche a cielo aperto e all'interno regnano degrado e abbandono. Il caso di Michael Giffoni, l'ex primo ambasciatore d'Italia in Kosovo, radiato dal corpo diplomatico con l'accusa di associazione a delinquere e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, è stato assolto dopo 7 anni. Il fatto non sussiste e non costituisce reato, hanno stabilito solo adesso i giudici. La sua colpa? Essersi fidato di un collaboratore che trafficava in visti e permessi di soggiorno. È stato come la pena capitale, commenta l'ex diplomatico. La mia vita è stata distrutta. Chi me la restituirà? Boom di esposti contro le banche. Oltre 11 mila solo nel 2020, il 36% in più rispetto all'anno precedente. L'indagine di Banca Italia svera il muro di gomma degli istituti sui finanziamenti Covid. La metà delle istanze riguarda infatti la difficoltà di accedere ai prestiti garantiti e previsti durante l'emergenza. Intanto, la popolare di Bari annuncia un rosso da più di 100 milioni e chiede di essere esclusa dal procedimento contro gli expertici a processo per aver falsificato i bilanci. Una beffa per azionisti e risparmiatori che vedrebbero così svanire ogni possibilità di ottenere un risarcimento. Buonasera a tutti, benvenuti a Prima Pagina. Vediamo come sempre i fatti principali della giornata. Oggi è martedì 28 settembre. Nel Padovano, operaio cade da un'impalcatura e muore come il titolare di un'officina precipitato da una scala in Piemonte. Potrebbero avere inalato a zotto liquido invece i due operai morti congelati nel deposito per la crioconservazione delle cellule in un ospedale del milanese. Solo ieri rincontrò Draghi e sindacati sulla sicurezza. È battaglia nella maggioranza a pochi giorni dalle amministrative. Per Conte, la Lega fa correre rischi al governo. Replica Salvini, non ce ne andremo. Non faremo questo favore a 5 Stelle e PD. Battaglia anche su tasse e reddito di cittadinanza. Caso Morisi, Salvini al contrattacco. Schifezza mediatica. Un attacco alla Lega a 5 giorni dal voto. Morisi, ex responsabile alla comunicazione del Carroccio, indagato per presunto spaccio di droga già la settimana scorsa, si era dimesso da tutti gli incarichi nel partito. L'ho vissuta come una condanna a morte. La mia vita è distrutta. Assolto dopo 7 anni l'ex ambasciatore italiano in Kosovo, Michael Giffoni, accusato di associazione a delinquere e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina dai Balcani. Fu destituito da tutte le cariche ed espulso dal corpo diplomatico, senza stipendio, ma era innocente. Le ultime sono state le figlie della vigilessa Laura Ziliani, ma lo fecero Pietro Maso, i parenti di Sarascazzi e molti altri, responsabili di un delitto che vanno in TV fingendo di non sapere dove sia finita la vittima, piangendo o lanciando appelli. La psicologa, personalità narcisistiche e tentativi di sviare le indagini. Dopo 7 anni il Milan torna a giocare a San Siro in Champions League, l'avversaria ora come allora è l'Atletico Madrid, del ciolo Simeone Ibrahimovic infortunato, il croato Rebic alla guida dell'attacco diretta alle 21 su Canale 5. Luce più 29,8%, gas più 14,4%, questo è l'aumento record delle bollette da parte dell'autority di regolazione per l'energia, per i consumatori in tutela, valido per il quarto trimestre del 2021. L'intervento del governo ha ridotto l'impatto, che poteva essere addirittura fino al 45% per l'elettricità e oltre il 30% per il gas, ma comunque anche così l'aumento per una famiglia media è per il prossimo trimestre di 300 euro. Altre cifre, altre percentuali. Il governo prevede per quest'anno una crescita del PIL del 6%, il deficit al 9,5%, sono numeri migliori del previsto, quelli emersi dalla cabina di regia Palazzo Chigi, sulla nota di aggiornamento del documento di economia e finanza, che domani sarà sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Il governo prorogherà anche fino al 2023 il super bonus del 110%. Matteo Salvini al contrattacco, tenta la sortita perlomeno sulla vicenda di Luca Morisi, il suo ex spin doctor, indagato per cessione di stupefacenti. È una schifezza mediatica, afferma un attacco gratuito alla Lega, a cinque giorni dal voto, una tempesta politica ceda, Salvini due pesi e due misure, dice Conte. Dal PD il vice segretario provenzano parla di doppia morale del segretario leghista. È di Giorgia Meloni, la prima mossa di un leader di partito nella partita per il Quirinale. Non voterei un bis di Mattarella, ha detto la leader di Fratelli d'Italia, che è uno che pesa perché un eventuale secondo mandato dell'attuale presidente sarebbe in realtà possibile soltanto con il consenso di tutti, che ora non c'è. Brunete intanto lancia la candidatura di Draghi. Sulla crisi climatica, dai leader mondiali arrivano solo bla, bla, bla. Così, in maniera eloquente, oggi Greta Thunberg a Milano ha una riunione attesissima di giovani ambientalisti provenienti da tutto il mondo. Le emissioni continuano a aumentare, stanno uccidendo i nostri sogni. Vogliamo giustizia, ha detto la Thunberg, alla quale ha teso la mano incontrandola il ministro Cingolani. Sono proteste utili, lavoriamo insieme per trovare soluzioni. Vedremo. Grazie.